La prestigiosa cornice del castello di Santina ha ospitato l'inaugurazione della stanza di Cavour recentemente recuperata grazie al lavoro del centro del restauro della Venaria Reale. Con la scomparsa di Camillo Cavour nel 1861, la nipote Giuseppina raccolse in un unico luogo le memorie e gli oggetti cari del primo ministro del Regno d'Italia. Il rappresentante del Consiglio regionale, che ha contribuito al restauro della stanza, la vicepresidente Daniela Ruffino.